Sono Luciano della Nautica Fierò, un'azienda presente da 1969 sul mercato nautico con la nostra sede principale di Ronciuglione sul lago di Vico e da pochi anni siamo presenti anche su Civitavecchia con una darsena direttamente sul mare dove abbiamo sviluppato tutta una serie di servizi per dare maggior assistenza a quelli che sono i nostri clienti. I nostri marchi che rappresentiamo sono ormai marchi storici, Mercuri per quanto riguarda i motori, Quicksilver per quanto riguarda le imbarcazioni, Cantieri Mimì, Marlin Bot per quanto riguarda Gommoni, Stinger e Predator, anche per imbarcazioni abbiamo Agua Bat e Trimarchi che sono diciamo quelle più rappresentative. Con la nostra impostazione, con la nostra azienda cerchiamo di dare servizi a 360 gradi, dalla vendita, assistenza, rimessaggio e qualsiasi cosa necessita la nostra clientela.